L'appello che ho fatto alle forze politiche che siedono a Cassugana è quello di non speculare sulla povera gente, di coloro che hanno realmente bisogno di una casa. L'obiettivo di questa amministrazione è di garantire un alloggio popolare a tutte quelle persone che effettivamente hanno bisogno. Se qualcuno pensa di fare il furbetto attraverso la forma dell'autocertificazione io credo che ci siano delle regole da cambiare e così stiamo facendo. All'indomani del Consiglio Comunale, infuocatosi sul tema delle abitazioni popolari e dell'inchiesta che ha coinvolto l'Ufficio Casa di Cassugana, il Sindaco Conte rinnova l'appello alle opposizioni annunciando che nei prossimi consigli verrà discusso il regolamento comunale per garantire ancora una maggiore trasparenza nell'assegnazione degli alloggi popolari. Primo cittadino che ha ribadito massima fiducia e solidarietà nei confronti dei dirigenti e dipendenti del Comune e massima fiducia nell'operato della magistratura. Ad aver reso ancora più caldo e dibattito a Palato dei Trecento l'annuncio da parte del segretario generale della revoca della graduatoria per gli alloggi ERP. Anche il bando è oggetto delle carte dell'inchiesta della Procura, per cui per evitare poi magari di mettere i cittadini a cui vengono affidate le case in una situazione di disagio per un ritiro poi eventuale della graduatoria, dovuto agli esiti dell'indagine, abbiamo preferito, è stato preferito, revocare il bando. Ma Cassugana sta lavorando ad un nuovo bando che approderà al Consiglio Comunale di fine novembre. Avremo i criteri per il nuovo bando, quindi poi con Hatter cercheremo di aprirlo quanto prima e di mettere a disposizione tanta forza lavoro per poter raccogliere tutte le domande. Ci aspettiamo, saranno intorno alle 800.